Sembra che a firmare il rinnovo dei contratti sarà il responsabile dell'avvocatura del Comune dell'Aquila, l'avvocato Domenico De Nardis, nel frattempo non più segretario generale ad Interim, dopo la sospensione di Carlo Pirozzolo, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica dell'Aquila. La figura, secondo i sindacati, sarebbe stata individuata dalla Giunta e in particolare dal sindaco Massimo Cialente. Nei giorni scorsi la svolta è stata preceduta dal no della sezione di controllo della Corte dei Conti, in funzione consultiva, a fornire un parere sulla legittimità o meno della scelta del Comune. Un gran rifiuto che però tra le righe conteneva elementi che sono stati ritenuti incoraggianti, soprattutto sulla sussistenza della possibilità di deroga concessa dalle norme, in virtù delle conseguenze ancora pesanti del sisma del 6 aprile 2009. I precari senza lavoro occupavano settori chiave dell'amministrazione comunale, come ricostruzione pubblica e privata, sociale, cultura, lavori pubblici, oltre a 15 mestri degli asili nido comunali rimasti chiusi e la loro fuoriscita sta provocando disservizi a non finire negli uffici. In caso di conclusione positiva della conciliazione, seguirebbero l'appuntamento alla Direzione Provinciale del Lavoro, da fissare per lunedì o martedì, per rendere ufficiale ed esecutiva la prosecuzione di quei contratti. E così sarebbe cosa fatta il rinnovo fino al 31 dicembre, spendendo un budget residuo di 400 mila euro autorizzati per il personale, in attesa di trovare altri 2 milioni di euro all'anno a fronte dei 2,5 richiesti e nuove certezze normative nella legge di stabilità.